Su iniziativa dell'Euridit di Giorgio Gagliardi, nuova riunione degli ex dipendenti TR a caccia di nuove opportunità di lavoro dopo il crack della più grande azienda tessile del centro-sud d'Italia. Come è noto tra loro è nata un'associazione dal nome Verso il Distretto Moda Molise-Sagno che vuole approfittare degli incentivi economici legati alle disposizioni sui distretti produttivi recentemente varate dalla regione molise, ma vuole anche far nascere una nuova imprenditorialità più diffusa, polverizzata sul territorio e necessaria per lavorare e accedere così ai benefici. È stato anche costituito un comitato scientifico a supporto dell'associazione di cui fanno parte studiosi ed economisti. Professor Luciano Fratocchi, Università dell'Aquila, le fa parte del comitato scientifico. Qui ci sono migliaia di disoccupati dopo il crack dell'ITR. Che futuro possono avere e come possono organizzarsi per creare questo futuro? Il futuro può essere fondamentalmente legato con l'opportunità del distretto. Creare questo distretto moda. Creare distretto moda da tre sbocchi fondamentalmente. Attrazione di aziende dall'esterno, da fuori Molise. Aziende italiane e straniere che vengano a investire qui perché c'è il capitale umano di quelle migliaia di persone che lei ricordava. Un capitale umano unico, però va valorizzato. Seconda opportunità. Ci sono ancora delle imprese che stanno riuscendo, nonostante cinque, sei, sette anni di crisi, a sopravvivere. Anche quelle imprese potranno crescere il loro personale recuperandolo dalle maestranze ex-ETR. Terzo aspetto. È proprio l'oggetto specifico dell'incontro di oggi. Creare autoimprenditorialità. Cioè l'opportunità di mettersi in proprio. Ci sono le opportunità, però bisogna non pensare a quali sono i finanziamenti, bisogna pensare a qual è l'idea imprenditoriale. Come ripartire? Come contribuire alla nascita di questo distretto? Ecco, ma la professionalità. Qui c'è la professionalità diffusa ma è scassa all'organizzazione imprenditoriale. Bisogna fare un salto di qualità, professore? Assolutamente e io vedo con vero applauso che si è accettato di fare questa associazione, questa idea di organizzarsi per riuscire a raggiungere degli obiettivi insieme.